Ecco la campionessa italiana per quanto riguarda la categoria delle uomini junior, Elisa Lanfrocki, KTM Protech, Eletro System, grande Elisa. Tanto Maria Zanantonelli, tanto in seconda posizione, arriva un'ottima, bravissima, Giana Martinoli della Ugreen di Gorla Minore, di prima Elisa Lanfrocki, seconda, Giana Martinoli. E il podio della categoria uomini junior viene completato da Marika Celestino, Scott Libarna. Resi Teamer! Marika Celestino, Scott Libarna. Resi Teamer! Classificata della Ugreen di Gorla Minore, Giana Martinoli. Prima classificata, campionessa italiana, woman junior, della KTM Protech, Eletro System, Elisa Lanfrocki. L'applauso del pubblico! Elisa Lanfrocki, nuova campionessa italiana di mountain bike tra le donne junior. Raccontaci le tue emozioni. Sono contentissima, non ci credo ancora. Era davvero difficile oggi, però sono riuscita a partire abbastanza bene, ho mantenuto il mio ritmo. Poi sono riuscita a prendere parecchio vantaggio e riuscire ad arrivare alla riva. Ti abbiamo incontrata a marzo, eri già contentissima di come stava andando. Primo anno in categoria, questa maglia cosa rappresenta? Esatto, allora sì, è il primo anno tra le donne junior. Beh, questa medaglia era un grandissimo obiettivo, ma più che altro un sogno. Quindi sono contentissima. Sei quella che ha forse sbagliato meno su un tracciato molto tecnico. Sì, era molto scivoloso, insidioso, il fango era molto, cioè c'era molto fango perché stanotte e anche ieri ha piovuto. Quindi sì, penso di aver guidato abbastanza bene, però comunque sono scivolata parecchio anch'io perché era davvero difficile la parte dietro nel bosco, esatto. Dedica. In primis al mio papà che mi ha sempre seguito, poi a tutta la mia famiglia, alla squadra, ai miei compagni. Grazie.